La fuffa pericolosa sulla stazione Irpinia, come abbiamo definito, quella resa appena martedì scorso da Generoso Maraia, si è concretizzata in maniera anche subdola nel pomeriggio di oggi con l'emendamento votato in Commissione che di fatto cancella la stazione Irpinia attraverso, in effetti, e se ho capito bene, ma ho capito bene, la cancellazione del tracciato apice stazione Irpinia, 700 milioni di lavoro definito nel progetto di rete ferroviaria italiana che prevede lo stazionamento a Santa Sofia, al confine tra Grotta Minarde e Ariano, dopo l'uscita da una galleria lunga 20 km. Hanno risposto oggi i parlamentari del Movimento 5 Stelle alle domande che abbiamo posto per l'intera estate, si farà la stazione Irpinia e voi come parlamentari della provincia di Avellino quale posizione avete nel merito? La stazione Irpinia non si farà e noi siamo d'accordo che l'alta capacità ferroviaria Napoli-Bari non attraversi e si fermi in provincia di Avellino. Questa è stata la risposta. Pensare che per tutta l'estate, fino all'altro ieri, proprio con Maraia, hanno accusato gli altri di diffondere fake news sulla stazione Irpinia, benché due sottosegretari dei 5 Stelle, altrettanti fulmini di guerra che resteranno imperituramente negli annali parlamentari Carlo Sibilia e Andrea Cioffi, avessero lasciato abbondantemente intendere dove poi sarebbero andati a parare. È una decisione irresponsabile e dissennata. In nome del dilettantismo, della decrescita felice, del reddito di cittadinanza, sottraggono all'Irpinia, alle zone interne, ad altri territori dell'Italia meridionale, l'unica consistente occasione di sviluppo e di ripresa, come non capitava e accadeva da alcuni lunghi decenni, irresponsabili allo sbaraglio che si schierano contro il proprio territorio, contro il suo futuro, contro le comunità, contro gli amministratori locali, contro il sindacato, contro Confindustria. Da noi salta la piattaforma logistica prevista in Valle Ufita, dove sarebbe avvenuta la prima lavorazione delle merci in transito dal nord Europa verso l'Europa dell'est e il Medio Oriente. Saltano le prospettive di ripresa e di sviluppo dei nuclei industriali, da Valle Ufita a quelli dell'Alterpinia fino al nucleo industriale di Avellino. Saltano nuove possibilità di investimenti italiani e stranieri che erano già in stato di attenzione ed erano già in movimento. Saltano occasioni, non poche, né residuali di lavoro, di lavoro quello vero. La decisione, se confermata, è uguale ad una sciagura, una sorta di nuovo terremoto, apparentemente senza vittime e crolli, ma la dimensione dell'occasione che si perde è esattamente quella di una sciagura, rispetto alla quale chi ha a cuore il futuro dei nostri territori deve denunciare, ma soprattutto opporsi e mobilitarsi.